Sono d'accordo con voi, l'erba fresca è molto meglio che il fieno. Freddino oggi. Già, meno male che abbiamo le nostre coperte. Sì, Giulia, è stata molto gentile a fabbricarcele. Ciao, pure drrini. Ciao, zio, cosa ci fai qui? Sì, stamattina avevo visto le vostre coperte e... Lo sappiamo, sono belle. Sì, ma scherzi a parte. Mi chiedevo se ne aveste una anche per me. Siamo schiacenti, ma Giulia ne ha fatti solo tre. Oh, che peccato. Ah, aspetta. Possiamo chiedere a Giulia se te ne puoi fare una. Ottima idea, Mair. Sì, magari in tema Natale. Oh, bene. Qualcuno la vada a chiamare? Sto tremando. Ci penso io. Giulia! Abbiamo bisogno di te! Ok, sta arrivando. Devi smetterla di urlare. Eccomi qui. Ciao, Giulia. Ciao, Firulì. Macchia, Mair e Bianco. Un attimo. Che cosa ci fai qui? Avrebbe bisogno di una coperta, riusciresti a fargliela. Ma certamente. Dimmi, come la vorresti? È possibile come vestito di Babbo Natale? Ma sì, certamente. Fantastico! Allora iniziamo! Bene. Allora, come vi avete capito, fin dall'inizio faremo una coperta per me! Sì. E in tema Natale. Per questo ci serviranno forbici, colla, matita e gomma da cancellare, carta normalissima, un cartoncino nero, un cartoncino rosso e della colla gritterata dorata. Bella! Per iniziare con la matita e la vostra gomma da cancellare, andate a disegnare la coperta su misura del cavallo a cui la volete mettere. esattamente in questo modo. Piegate il foglio esattamente in questa linea qui, esattamente così, e andiamo a ritagliare. Ecco fatto! Controllate che il cavallo che avete scelto gli stia bene. Ah, in questa parte qui, dovete lasciare un po' di spazio, perché ci andrà una lineetta di carta più piccola per dopo poter sfilare, rimettere la coperta al cavallo. Anzi, facciamo così. Prendete il cartoncino nero, mettete la coperta ritagliata sul cartoncino e prendete le misure per fare la cintura. Ci fate una lignetta, a seconda di quanto è lunga la coperta, e piegate il foglio proprio su quella linea. Adesso, se lo giriamo, vedete che l'altra estremità del foglio è arrivata da questa parte. Fate un'altra lignetta e ritagliate da qui fino all'altra parte. E ne verrà fuori una linea fatta così. Dovete metterla proprio a questa altezza, lasciando una piccola parte fuori dai bordi. Ma prima di incollare la cintura alla coperta, dobbiamo fare la cinghia. E quindi, con la colla glitter, andiamo a formare un rettangolo proprio nel mezzo della striscia. Dovrebbe venire fuori questo. Mentre aspettiamo che la colla si asciughi, facciamo quella striscia di lana che ha sempre avuto Babbo Natale come colletto. Ritagliate e andate ad incollare. Fate la stessa cosa dall'altro lato. Quando la colla glitterata si è asciugata, fate la stessa cosa dall'altra parte della coperta. Ecco qua. Allora, Bianco, ti piace? Ecco... Io... L'adoro! È veramente stupenda! Grazie. Ti manca solamente il cappello. Tranquilli, ci ho già pensato io. Davvero? Guarda sulla tua testa. Wow! È stupendo! Grazie! Mi piace tantissimo! E a voi ragazzi? Il video è piaciuto? Se è così mettete un like! E per non perdervi nessun'altra delle nostre puntate iscrivetevi al canale! Ciao! Ciao!